Il Consiglio Comunale di Ribera ha approvato ieri sera il bilancio di previsione. Lo strumento di programmazione economico-finanziaria approdato in Consiglio con il parere negativo dei Revisori dei Conti è passato con il voto favorevole della maggioranza mentre l'opposizione si è astenuta. Un bilancio che anche a Ribera, dunque al pari di tanti altri comuni, in linea con una situazione diffusa come è noto in tutta la Sicilia, viene approvato a fine anno e cioè in netto ritardo, non lasciando ampi margini di manovra per opere ed investimenti. Un ritardo stigmatizzato dall'opposizione che nel pomeriggio di ieri e pertanto poco prima della seduta consigliare aveva comunicato attraverso una nota diffusa alla stampa la volontà di non presentare emennamenti spiegandone le ragioni. È noto che i bilanci di previsione degli enti locali annualmente dovrebbero essere approvati entro il mese di marzo, scadenza che il sindaco Matteo Ruvolo aveva assicurato al momento del suo insediamento, si legge nel comunicato dell'opposizione. Purtroppo però il Consiglio comunale di Ribera è stato messo nelle condizioni di poter discutere il bilancio di previsione solamente alla fine dell'anno. E per senso di irresponsabilità abbiamo deciso di non presentare emennamenti, poiché tale circostanza, così come prevede la norma, avrebbe fatto slittare la data di effettuazione del Consiglio comunale. Un ritardo che avrebbe danneggiato i cittadini in quanto coincideva con la chiusura, per ragioni tecnico-contabili, delle operazioni del servizio di tesoreria comunale, impedendo di fatto il pagamento degli stipendi e il pagamento dei mandati ai cittadini creditori. Considerato che era già stato preannunciato un emendamento al bilancio per assegnare le somme per il ripristino della strada di collegamento Ribera-Poggio-Diane per l'avvio della stabilizzazione dei lavoratori precari, in alternativa e a tal fine l'opposizione ha annunciato la presentazione di una mozione di indirizzo. Il notevole ritardo nella presentazione del bilancio di previsione, conclude la minoranza nella nota, dimostra ancora una volta l'approssimazione e l'incapacità amministrativa del Sinnaco e della sua giunta. Ma c'è un'altra nota, sempre dell'opposizione, indirizzata al segretario comunale, al quale la minoranza ha deciso di rivolgersi, polemizzando anche in questo caso con l'amministrazione. E' insolito che consiglieri comunali si rivolgano al segretario per conoscere decisioni e scelte politiche e amministrative del Sinnaco e della sua maggioranza. Ma siamo costretti a farlo, scrivono Paolo Caternicchia, Alfredo Mulè, Nicola Inglese, Giovanni Tortorice e Federica Mulè, perché il Sinnaco non si degna mai di dare risposte alle numerose interrogazioni, spesso frutto di specifiche domande che provengono dai cittadini, così come non è stata ancora consegnata la documentazione relativa alla richiesta del 22 ottobre scorso di accesso agli atti dell'amministrazione. Al segretario i cinque consiglieri di minoranza chiedono pertanto di conoscere se il comune di Ribera si avvalga o meno per l'ufficio ragioneria di consulenti esterni a pagamento, se ci siano consulenti esterni presso gli uffici finanziari, se ci siano società che a vario titolo e non gratuitamente offrono supporto al settore ragioneria tributi ed ancora se ci siano meno consulenti esterni presso il servizio politiche sociali ed eventualmente con quale titolo frequentano tali uffici, se siano state fatte assunzioni a tempo determinato, se nella società Ribera Ambiente sia stato nominato un direttore generale, se gli eventuali conferimenti degli incarichi siano stati fatti con regolari avvisi pubblici e copia dell'avviso. Grazie 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 Grazie